Le piacerebbe avere i capelli belli, luminosi, forti e sani? Non si è contenti di shampoo e lozioni per capelli e si prenda cura dei suoi capelli a partire dall'interno. Come si può raggiungere questo obiettivo? Questo è ciò che vedremo in questo video. Buongiorno a tutte e a tutti. Per cominciare, una corretta alimentazione è essenziale per la crescita e il mantenimento di capelli sani. Le cellule all'attaccatura dei capelli hanno bisogno di alcuni nutrienti speciali disponibili in alcuni alimenti e integratori nutrizionali. Prima di tutto menzioniamo l'oligoelemento zinco. Contribuisce alla crescita dei capelli e migliora anche la resistenza. Lo zinco calma le reazioni eccessive del sistema immunitario e quindi protegge le radici dei capelli dall'infiammazione. Se lo zinco è carente, le cellule dell'attaccatura dei capelli possono essere distrutte più rapidamente. Gli studi hanno dimostrato che la perdita di capelli è associata a carenza di zinco. Successivamente passiamo alla cheratina, la grande proteina costituente dei capelli, pelle e ucchio. I nostri capelli sono composti da non meno 90% di cheratina. Gli integratori di cheratina solumilizzata vengono estratti dalla lana di pecora, dalla seta o dal grano. Contribuiscono al volume e alla flessibilità dei capelli. Molte persone che assumono cheratina riferiscono che questa rende inoltre i capelli più lisci e più facili da prendersi cura. Successivamente menzioniamo una delle vitamine più importanti della famiglia delle vitamine del gruppo B. La biotina, alias vitamina B8 o vitamina della bellezza. Questa vitamina migliora la struttura naturale della cheratina di cui abbiamo parlato. Diversi studi associano la carenza di biotina ai capelli fragili o alla loro perdita. Questo è il motivo per cui molti specialisti del capello raccomandano di consumare cibi ricchi di biotina o di assumere integratori di biotina. Infine parliamo del silicio organico. Questo minerale è molto apprezzato per la sua capacità nel sostenere l'afflusso di sangue ai bulbi piliferi e promuovere l'eliminazione delle tossine che danneggiano la salute dei capelli. L'estratto di bambù, ottenuto dai germogli di bambù, radici, olifa, contiene un contenuto particolarmente elevato del silicio organico ed è quindi ampiamente utilizzato nel mondo della cosmesi. Alcune formule sinergiche, d'altra parte, riuniscono questi diversi composti. E questo è il caso della formula Hair and Nails formula di SuperSmart, ottimizzata per la salute della pelle, dei capelli e delle unghie. Contiene tutti gli ingredienti che abbiamo menzionato in questo video, a cui vengono aggiunti rame, inositolo e alcuni altri componenti accuratamente selezionati. Grazie per l'attenzione e a presto!